Come and get it E ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo unissimo video Allora come noterete siamo in una location molto strana Non so la dimensione della webcam quindi diciamo guardate qui dietro Allora mi sono spostato finalmente nel posto dove avevo fatto vedere quel vlog delle news e degli aggiornamenti Che vi vindo ad andare a vedere perchè in descrizione non ve lo metto Va bene a parte le cavolate siamo qui su mindplex per chi non l'ha capito siamo proprio sulla M di mindplex Una cosa che è buono non ha mai visto nessuno perchè nessuno sa come arrivarci Beh vi do un consiglio enderpearl fine Ok che ne dici di andarci a fare una bella partitozza sugli skywords? Certo prego prego Ok si parte ok ragazzi ci troviamo sui aspetta No Ok ho preso il kit Va bene allora ci troviamo in due squadre Ah no stiamo pure insieme ciao ping Ah si perchè abbiamo fatto il party Siamo il team sunshine perchè questo qua è uno skywords a team Compratemi un mouse Allora per chi non lo sa e forse ci farò un vlog Eh domenica è stato il mio compleanno giusto pingoo? Giusto E adesso pingoo mi deve fare il regalo Fine Fine della discussione Perché io non posso fare niente da me non ho preso Eh perchè sei una pippa Ricordiamo a tutti Ah ragazzi comunque come vedete dalla webcam adesso non posso girare perchè sto impegnato Eh metterò il green screen qui dietro perchè una volta ho fatto un vlog però era tipo un foglio di carta fatto a green screen non mi ricordo Comunque metterò il mio tail l'ho chiamato green screen perchè è verde e è fatto apposta da una cosa apposta Non è vero l'ho comprato a dove vendono i tessuti va bene Però comunque a quello lei gli ho detto mi serve per il green screen e lui ha capito al volo quindi siamo pure fortunati Allora qui ho trovato un'altra cesta e mi sto fregando tutta l'armatura e c'ho sei diamanti Con sti sei diamanti mi ci faccio una bella spadozza Perchè qui dobbiamo uccidere la gente A meno che non moriamo prima A te serve la spadozza? Eh no questo due diamanti mi dice Ah ok Eh con questi quattro diamanti beh ci infiliamo in Q Ok allora ci sta sto tizio di qua quest'altra quest'altro team Gente già sta in mezzo cioè progress wow Io ucciderei un pollo no i pollici danno le uova Visto che non stiamo in un lucky wars le uova e le palle di neve non fanno niente Non sono come i lucky wars che esplodono fanno le bombe atomiche e sembra di stare in fallout quindi aspettiamo un po' che ci prepariamo e ci vediamo dopo Ok ragazzi siamo pronti e carichi il nostro team sunshine è pronto ad andare al centro Siamo mega corazzati super mega corazzati e pingu sta meglio corazzato di me quindi Eh affido a te il comando pingu No sto scherzando sempre del comandante Allora ci abbiamo qualcosa dentro le fornaci mi sembra di no Allora avanzare adesso sarebbe come spararsi sui cogliompi Quindi ci conviene Oddio no si sta già spascia il mondo vero Oh Che qua si Ah porca puttana me lo dici subito o me lo dice E vai Mi sono andata a casa Mi sono andata a casa diretto Ok Io ho perso vediamo adesso pingu dov'è Ok pingu è sull'isola loro e c'ha goku super saiyan Ok c'ha la spada in diamante attenzione Butta quello giù Vai Vai buttalo giù No la te vi fa uccide Guarda il lag il lag No vai uccidilo Ma sono loro che l'hanno No scappa 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 C'è un ponte c'è un ponte vai 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 Oh ci si è un team da sotto C'è un ponte perché vai di lato C'è un ponte perché vai di lato C'è un spascio il mondo Allora questa mo me la spiego Mi spiego che sto andando a pecazzini Tu hai detto torno indietro Io per torno indietro so caduto Allora ragazzi scrivete nei commenti Chi c'ha ragione Allora mettendo il fatto che Il mondo sta degenerando E' meglio optare la strada robininewolf andare verso il centro Visto che si sta deteriorando nei lati O è meglio fare la tattica pingu che si va nei lati Così si rischia di morire Quando un tuo amico ti dice Vai dietro che c'è un ponte che ti manda al centro Tu cadi senza motivo Scrivete nei commenti Ok ragazzi siamo qui in un'altra partita Perché pingu ha avuto la geniale idea di tornare all'hub Visto che oggi pingu è geniale Dove si è buttato nel mio motivo Allora dove stai signor pingu? Eh per giocarti i menzini Dove stai signor pingu? Ok così Accetta la chiesa Ok adesso io e pingu stiamo in team Ciao Siamo il team mango Come mango 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 Lo sai qual è il colmo per un mango? Lo sai sì o no? No Mango io Mango io Mango 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 Ok ragazzi a parte le cazzate ci vediamo in partita direttamente Ok ragazzi sta iniziando allora 6,5,4,3,2,1 Via iniziato Ok Allora Ciao pingu Hai preso il kit vedo Eh sì Sembra il copione della situazione Diamantini Porca avutana non vedi qua e non veni qua capito non veni qua Vabbè tanto sappiamo che non è pingu quindi Mettiamo la pietra Oh diamante grazie Ok grazie Ok grazie Ok grazie Grazie Non vedi un diamante 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 Ok Ok ragazzi spadona fatta dimmi pingu qui c'è un bel diamantino tempo un po' tac diciamo vedi che ci sta qua tendo che forse fra un po' si rompe il mondo non ci conviene rischiare ho preso il più roba che potevo non è vero niente perchè sta roba e stava e dobbiamo continuare a prendere il ferro allora tutte queste galline mi ricordano la serie hardcore e sanno tutti che fine hanno fatto nel terzo episodio che non è mai uscito della serie hardcore le ho uccise tutte ecco questo qua era un piccolo spoiler perfetto ok facciamoci anche delle gambozze e i piedini ce li facciamo no non ci basta quindi eccoci qua le gambozze oddio sbaglio tutta questa tastiera allora mettiamo tutto qua perfetto eeeh partiamo perchè ho detto mettiamo tutto qua se non dovevamo mettere niente la niente la quindi adesso più non vediamo un po' eh lo so prestavuta sfascia il mondo quindi facciamo e io prenderei la cesta qua sotto non ci sta un grazzo ci hanno già fregato tutto fine ok procediamo proprio veni sali sopra sali sopra proprio la speditaggine speditura acqua che ci sta niente non c'è razziati sono i zumbi se ne frega io me li mangi di zumbi wow no troppi zumbi va indietro indietro dietro eh però se mi rimane a coprirmi la visuale eh finchia facciamogli cade tutti vai facciamo da esca a la tecnica alla sinistra no ci sta quello aspetta ah 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 ho deciso 1 l'h ecco ne uno sta lagga ne ho ucciso 1 lo so ah 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 tendo vingue non rischia no ho trovato penso ok stiamo uccide tutti eh piccoli indiamanti da lato dai siamo il king del centro ciò la super cn quando siamo il centro ti sarà un piccoli indiamanti vieni qua subito stanno a sali 2 stanno a sali 2 dove stanno a sali 2 qua aspetta vai buttaglia la propone eh la mira di pingu la mira di pingu no madonna pensavo salivano ok ho preso io la cosa vai vedete la mira di pingu attendi che stanno parte a sta parte dove qua eh qua grazie ah qua ok è uno solo ci salvano le armature cazzo cazzo che è su stupido no hai cliccato con l'altro si se la gesta oddio pure scalcolato riesco prendo io oddio eccoli 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 dove oh le no porca puttana stavolta è colpa mia come l'ho ci sono uno di uno l'ho ucciso ok oddio questa la roba un enderpearl così mi salvo io lascio indietro ping ok troppi eh che ho fatto un altro malaccato tantissimo insieme ok ok un altro e due tnt io ci penso io eh piace oh oh e vaffanculo va troppo perchè sbagli ma non sbagli guarda c'è proprio il video che lo documenta porca puttana troia che sto cosa è uscito proprio male guarda guarda mi cazzo porca si l'ho fatta cadere questa per me so a me mi laggano le nt senso di guarda guarda asilo attento romp lo preghiudami dimmi 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 ecco aspettaci ma c'è un mezzo da con me eh lo cerco di prendere ce l'abbiamo camadosca porca madosca testa incroci questo ah si ucciso chi ci sono rimasti si 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 ho vinto un cacchio di team skyworks su mindplex finalmente ah ora sono un uomo completo allora ce ne facciamo un'altra e poi credo che possiamo anche chiudere ok ragazzi stiamo per iniziare la terza partita ed ultima partita della giornata eccoci qua allora cominciamo a dispezionare vai 4 3 2 1 vai rubiamo tutti i mandati a pingoo vai olè ok l'armatura a noi è fatta la spada dicevo prendiamo tutta la roba ciao pingoo sembra stiamo a far gara ogni volta che cosa è scomparsi tutto il ferro comunque qua il ferro non è che ci sta spauna che tipo adesso non ci sta niente fra 5 secondi torniamo e ci è pieno diciamo oddio stifoni mi fanno paura via ce li fumiamo tutti insieme allora ah dove ecco qua l'hai visto che spawnava il ferro allora prendiamo tutto sto ferro e ci imbottiamo di ferro olè ok ho trovato un'altra minatura di ferro appena spawnata comunque questo questo meccanismo di spawn è buono lo dovremmo anche mettere nel nostro server se volete visto che io non ho mai parlato del nostro server se volete aggiornamenti sul server chiedete albiamo nei commenti se volete far parte dello staff e cose varie oddio oddio no abbiamo perso che c'è niente sono stanno certi nella nostra isola non usci fuori mi sta colpito alcuno ma non so dire eh tu è ucciso non m'ho ucciso l'ucciso io oh ci sta un altro vai buttalo giù buttalo giù ok lo sei vai pingoo pingoo ci vendicherà speriamo ora io sono finito nel vuoto quindi la mia roba non la trovi e neanche i tuoi diamanti ce l'hai oh attento che questa uno con ponte si vengono strane idee lo potresti prendere con le uova però sta in angolatura un po' strana no non lo riesci a prendere eh ti aperto se arriva qualcuno no vai pingoo vai no 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 vai la gata la gata la gata la gata no ma si uccidono fra di loro aspetta rimane l'ultimo team ma e scampa alla distruzione quindi ti conviene avvicinarti al centro a quello con l'arco gli è morto l'amico quindi avanzano no si non vicino anno vabbè ha ucciso uno colpiscino con le uova adesso adesso con le uova adesso non ce l'ho vai belc non proprio al centro fermati a stisola eh intanto il mondo sta distruggendo e ne stiamo aiutando pingoo attento eh allora in mezzo ci sta la cosa no sta salì un altro prendi la cosa e vattene eccolo 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 armatura in ferro armatura in ferro via 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 troppa gliela ah il mouse ok beh gg perchè ha distrutto tutti i zombie però non te ne vantà ecco ah niente perfetto ok ragazzi per questo episodio mi sembra anche tutto e spero che vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao